Ciao ragazzi, sono Roger Argentina e nel giorno di oggi siamo in un video, questo durerà pochissimo, perché voglio avviarvi che il 29 sarebbe domenica maggio, allora ricordatevi, maggio 29 domenica, farò un live streaming nel mio canale, l'ho già fatto una volta ma è uscita di culo, allora lo farò di nuovo, allora vi raccomando di andarlo a vedere, perché non so come uscirà, ci sarà un gran fail e ci saranno tante sorprese se il live uscirà bene, però volevo soltanto dirvi quello e ciao, bye!